Condanne fino a 20 anni di carcere sono state chieste dal PM della direzione distrettuale antimafia Paolo Sirleo per i 19 imputati a processo in seguito all'inchiesta Tissifone, che il 20 dicembre del 2018 ha colpito le cosche di isola di Caporissuto, Papanice e Petiglia Policastro, con il fermo di 23 persone. L'operazione della DDA condotta dalla squadra mobile di Crotone evitò anche un omicidio dal momento che l'attività investigativa ha fatto emergere i propositi dei clan locali di compiere un agguato entro Natale. I 19 imputati, che hanno scelto il rito abbreviato Davanti al Gup Distrettuale, rispondono a vario titolo di associazione a delinquere, di stampo mafioso, estorsione, detenzione illegale di armi, tentato omicidio, rapina, illecita concorrenza con minaccia. Complessivamente sono 300 gli anni di carcere chiesti per i 19 imputati. In particolare il pubblico ministero ha chiesto 12 anni per Salvatore Arena, 16 per Tommaso Gerardi, 10 anni e 8 mesi per Seium Brock Astrat, 16 anni per Rosario Curcio, 14 per Gianfranco Calabretta. 20 anni di carcere è stata la pena chiesta per Salvatore Antonio Capicchiano, Luigi Manfredi e Antonio Nicoscia, 16 anni per Orlardo Capicchiano, 12 anni per Alessandro Giardino, Antonio Manfredi e Francesco Macrillò Giovanni Muccari, 10 anni e 6 mesi per Antonio Lentini, 10 anni per Antonio Nicoscia e 16 anni e 8 mesi per Santo Claudio Papaleo, 10 anni per Carmine Selapide, 16 anni per Rocco Devona. Due imputati, Giuseppe e Antonio Gentile, hanno invece scelto il processo con rito ordinario.